In mattinata ha condotto come sempre storie italiane, poco dopo le contrazioni e la corsa in ospedale insieme al marito. Eleonora e Giulio si sono sposati lo scorso settembre dopo 16 anni d'amore. L'annuncio della gravidanza lo aveva fatto la stessa Daniele in diretta tv durante la trasmissione, poi era sempre stata presente in studio con il suo bel pancione. Eccoti qui amore mio, è bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta sei nata ieri alle 20 e 15 desiderosa di venire al mondo di ben più di 4 chili. La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto, ha scritto la Daniele mostrando la manina della sua bambina. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.